Cari lettori, cari lettrici, ben ritrovati e ben ritrovate. Siamo nel mese di giugno, esce il nuovo numero di Pantheon e come potete vedere abbiamo fatto un mezzo miracolo. In copertina Sofia Goggia, campionessa olimpica, campionessa del mondo di sci. A lei è dedicata la prima pagina del nostro giornale, lo abbiamo intitolato, lo vedete, storia di una predestinata. Scorrendo le pagine si vede proprio che abbiamo dedicato questo articolo di apertura, Il Coraggio di avere paura, un'intervista esclusiva realizzata dalla nostra Giorgia Preti, vedete che è dedicata alla grande campionessa bergamasca che tutti non sanno però che ha trovato casa a Verona. Un'intervista esclusiva, davvero da non perdere e ci tenevamo insomma ad aprire con questa novità che per noi è qualcosa di veramente qualificante. Permetteteci questo aggettivo. Abbiamo parlato anche con un'altra persona, un'altra personalità riconosciuta a livello nazionale, Stefano Quintarelli, ritenuto un pioniere, un guru di internet che abbiamo raggiunto grazie in occasione all'evento Verona Digitale, realizzato appunto nel mese di maggio presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri, Quintarelli ci dice in questa intervista che internet è cambiata, ma insomma vanno anche preservate diciamo certe garanzie istituzionali e democratiche, perché abbiamo parlato di digitale e di nuove tecnologie, perché è anche l'inserto speciale. Come vediamo e sfogliamo brevemente anche questo contenuto particolare, abbiamo dedicato dicevamo alla serata Verona Digitale dall'Ordine l'articolo di apertura e poi via via tanti temi che riguardano una materia nuova che ci sta affascinando, che ci sta coinvolgendo sempre di più nella nostra quotidianità e non solo. E infine scorrendo poi con le pagine del giornale arriviamo a Pantheon Spettacoli Eventi, chiaramente dedicato a Fondazione Arena, all'Opera Festival di Verona, che è giunto alla centesima edizione, è stata presentata anche al Parlamento Europeo, al cospetto della Presidente del Parlamento Europeo, Mezzola. Insomma un'edizione che sarà storica, sarà celebrativa, importante e quindi come non dedicare la copertina del nostro speciale a questa edizione. Non mi dilungo, vi ho già portato via qualche secondo in più, non vi resta che leggervi il nuovo numero di Pantheon che sarà disponibile ovviamente in formato cartaceo anche a partire dai prossimi giorni. Vi saluto, noi ci ritroviamo a luglio con la prossima edizione.